Musica Nella scorsa puntata abbiamo parlato della differenza tra allergie e intolleranze alimentari. Oggi vogliamo accennare un altro tema molto interessante e importante, l'intolleranza al lattosio da non confondere con l'allergia al latte. Sembrano simili, ma i meccanismi che influenzano il nostro corpo sono diversi. Scopriamo quali strumenti vengono utilizzati dalla dottoressa Russo per affrontare la problematica. Utilizzo il lactofan, che è il cosiddetto brettest al lattosio, per chi ovviamente ne abbia la necessità in base ai disturbi che ha il paziente. Diciamo innanzitutto che il lattosio non è altro che lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati. Diciamo che l'intestino tenue, che è l'organismo preposto per l'assorbimento e la digestione della maggior parte dei nutrienti, produce un enzima che si chiama lattasi. La lattasi scinde questo lattosio in due zuccheri più semplici, che sono il glucosio e il galattosio. Una volta scissi, questi passano nel circolo sanguigno, quindi vengono assorbiti, e passano direttamente nel circolo sanguigno. In caso di carenza di lattasi, il lattosio che non è stato digerito passa nell'intestino crasso. Nell'intestino crasso viene scomposto dalla presenza di batteri ed infine determinando così una liberazione eccessiva di idrogeno, che poi passa in circolo e viene eliminato dai polmoni attraverso il respiro. Quindi quello che viene fatto attraverso il lactofan è la misurazione della concentrazione di idrogeno in carenza di lattasi in seguito all'assunzione di 25 grammi di lattosio puro. Ora, quindi diciamo che l'intolleranza al lattosio è un problema dell'apparato digerente, che poi è diverso comunque dall'allergia, in quanto l'allergia al latte è una reazione che il sistema immunitario ha nei confronti di una o più proteine del latte. Diciamo che l'allergia al latte può avere anche delle conseguenze fatali, anche se il soggetto per esempio assume piccole concentrazioni di latte o dei suoi derivati. Generalmente l'allergia al latte si manifesta nel primo anno di vita, invece l'intolleranza al lattosio si può manifestare anche in età adulta e ha delle conseguenze sicuramente meno dannose, meno pericolose rispetto all'allergia vera e propria. Non solo test per l'intolleranza al lattosio, ma recandoci da un professionista, oggi possiamo avvalerci di indagini meticolose effettuate con macchinari all'avanguardia, di cui parleremo con precisione nelle prossime puntate di Alimentarsi per Vivere. Noi, come di consueto, chiudiamo con il nostro caro Ippocrate e con un consiglio da tenere sempre a mente della nostra nutrizionista. Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare, tutto deve essere misurato. Alla prossima. Il consiglio fondamentale è quello di utilizzare, di consumare, voglio dire, frutta e verdura di stagione. Poi ovviamente alternare la presenza delle proteine è importante. I carboidrati sono importanti. Molte persone mi dicono, no, ma io guardi, ho eliminato pane e pasta sbagliatissimo, perché poi si vengono ad innescare tutti quei circoli viziosi che ci inducono ad una non corretta alimentazione, quindi promuovono sicuramente l'aumento della massa grassa e la perdita della massa muscolare ed incremento sicuramente delle sintomatologie vaghe e da specifiche.